Buongiorno a tutti, sono Alessandro Busi, sono uno psicologo e psicoterapeuta e quindi, diciamo, mi occupo principalmente di clinica. Accanto all'attività clinica però mi occupo anche di scrittura e quindi possiamo dire che più in generale mi occupo di narrazioni. Per questa ragione, diciamo, quando mi è stato proposto di partecipare a questa iniziativa, noi restiamo in contatto. La prima domanda che mi sono posto è stata quale fosse una parola che stava contraddistinguendo, che sta contraddistinguendo questo tempo. La risposta che mi sono dato è che questa parola è relazione, non solo intesa in termini di contraltare rispetto all'isolamento sociale che stiamo vivendo, ma anche in senso più ampio. E quindi mi piacerebbe provare a vedere, ad esplorare assieme questa parola partendo da una considerazione, da una domanda. Ovvero, come siamo arrivati a considerare l'autonomia, la singolarità, come contrapposta alle relazioni? Perché questo è un po' uno dei miti che ci portiamo dietro, quantomeno nella società occidentale. Allora, se noi andiamo a vedere la storia dei racconti, delle narrazioni, quando parlo di narrazioni non mi riferisco solo, per esempio, alla scrittura, ma anche musica, film, quadri, ok? La troviamo costellata di eroi solitari. L'eroe romantico dei quadri di Friedrich, l'Ulisse che affronta Polifemo, il vecchio del vecchio il mare di Hemingway, il modello sociale del self-made man o della self-made woman, quindi penso per esempio a Miranda di Sex and the City, ma anche, se prendiamo per esempio un genere musicale che in questo periodo va molto, quindi il rap, il rap è una storia di eroi solitari. Non è un caso che uno dei maggiori esponenti, dei maggiori esponenti, appunto Tupac Shakur, abbia intitolato il suo terzo disco Me Against the World, Io contro il mondo, ok? Quindi il fatto che la storia dei racconti sia costellata di eroi solitari significa che il fatto di essere degli eroi solitari è diventato un modello sociale desiderabile. Però nuovamente, eroi solitari significa essere estranei rispetto alle relazioni. Allora, qualche mese fa leggevo un libro di uno scrittore ebreo new yorkese che è Jonathan Safran Foer. Il libro si intitola Come possiamo salvare il mondo prima di cena. Anzi, possiamo salvare il mondo prima di cena. Questo libro inizia con l'autore che fa proprio una teoria di un altro libro, che è il libro dei finali. Secondo questa teoria, sostanzialmente, per farla molto breve, tutti i respiri del mondo che sono stati prodotti da che il pianeta terra esiste fino ad oggi, da tutti gli esseri viventi che lo hanno abitato, non sarebbero andati persi, ma si sarebbero accumulati e quindi ogni volta che noi inspiriamo buttiamo dentro di noi qualche particella, che ne so, di Giulio Cesare, di Napoleone, dei mammut, della nostra maestra dell'asilo e al contempo, quindi ogni volta che noi espiriamo, rilasciamo qualcosa di noi che verrà ispirato da qualcuno nel futuro. Verso la fine della dissertazione appunto di questa teoria, Safran Foer arriva una considerazione personale che vi leggo. Dice così, Bene, devo dire che questa immagine della rete fatta da un unico filo è un'immagine che spesso mi ha inseguito in questo periodo, perché credo che ci offra un'alternativa molto interessante rispetto al considerare appunto, come dicevamo prima, l'autonomia, la singolarità come contrapposta alle relazioni. Perché quello che lui ci dice è che proprio il nostro essere individui, proprio il nostro essere nodi di questa rete e quindi distanziati e quindi singolari è ciò che ci mette all'interno della rete stessa. In qualche misura ci sta dicendo che le due cose sono imprescindibili. Ecco, io sono convinto che l'esperienza che stiamo facendo in questo periodo di questo virus ci stia proprio restituendo l'imprescindibilità delle relazioni e quando parlo di relazioni intendo veramente tutte le relazioni, il che significa relazioni fra individui, fra specie, relazioni economiche, relazioni fra età, relazioni vicine, lontane, telematiche, relazioni cliniche, tutte le relazioni. Ci sta restituendo cioè il fatto che non possiamo evitare di pensarci interconnessi perché lo vediamo nel momento in cui pensiamo a come ha fatto il virus a muoversi nel mondo, le interconnessioni che ci sono. Lo vediamo nel momento in cui pensiamo a... ci poniamo la domanda, no? Magari potrei essere entrato in contatto con il virus? E scopriamo che la risposta è indubbiamente sì perché i passaggi con i quali arriviamo a qualcuno che magari si è ammalato non sono così tanti. Oppure lo scopriamo nel momento in cui sperimentiamo l'utilità del nostro isolamento sociale e quindi capiamo la portata sociale, la portata collettiva delle nostre singole azioni. E credo che questo sia il... probabilmente l'aspetto che più mette in difficoltà molte persone. Questa esperienza ci sta restituendo la nostra dimensione relazionale ricordandoci che siamo ammalabili e quindi che siamo bisognosi di cure e che quindi potremmo aver bisogno di una relazione di cura. Bene, ora la questione è... ammettiamo anche che queste considerazioni ci ritornino, ci tornino, ci... sì, le consideriamo utili. E quindi cosa ce ne facciamo? Allora io ho provato a immaginare tre scenari che potrebbero aprirsi. Il primo scenario è quello di reagire con rabbia. Di reagire con rabbia perché vogliamo mantenere solide, mantenere monolitiche le visioni del mondo che abbiamo detto prima, quindi quella dell'eroe solitario contro le relazioni, come opposto alle relazioni. Ed è comprensibile che vogliamo farlo. È comprensibile che vogliamo farlo perché quando parliamo di visioni del mondo non stiamo parlando di qualcosa di astratto, stiamo parlando di scelte che abbiamo fatto nella vita, stiamo parlando di speranze, stiamo parlando di investimento emotivo, stiamo parlando di percorsi di vita e quindi di qualcosa di emotivamente molto potente. Il problema è che a questo punto potremmo iniziare a sentire che alcuni modelli non funzionano più così bene e quindi nel momento in cui ci aggrappiamo iniziamo a sentirli fragili e questo ci fa arrabbiare. Una seconda possibilità invece è quello di rassegnarci, di rassegnarci, di sentirci inermi di fronte a un destino rispetto al quale non possiamo fare assolutamente nulla, accettare una sorta di condizione per cui è tutto inanticipabile, è tutto impensabile e quindi semplicemente aspettare che, come dicono quelli della teoria del caos, aspettare che la famosa farfalla batta le ali a New York e vedere in che modo nuovamente la nostra vita verrà sconvolta. Questo fa paura, fa paura e una paura che non è timore, è più terrore. E poi credo che ci possa essere una terza, uno terzo scenario, una terza possibilità che probabilmente racchiude anche le altre due perché credo che parta dal presupposto di concepire le altre due, cioè concepire che possiamo avere paura, che possiamo avere terrore, ansia, panico, che possiamo anche trovare dentro questo tempo invece qualcosa che addirittura ci piace e quindi potremmo sentirci in colpa per questo. Parte dal presupposto che possiamo appunto essere arrabbiati perché le speranze che abbiamo nutrito ci troviamo a doverle rimodulare, ovvero parte dal presupposto che stiamo vivendo un'esperienza che ha una portata emotiva molto grande e che quindi non possiamo evitare di farci i conti. E una volta che appunto diamo spazio anche a quello che viviamo, a come lo viviamo, possiamo quindi anche chiederci bene, a questo punto che cosa faccio, che cosa possiamo fare? Possiamo chiederci chi vorrei, chi mi sento e anche chi ho paura di essere assieme agli altri e quindi possiamo anche chiederci chi vorrei, chi mi sento e chi ho paura che gli altri possono essere con me. Ovvero in altri termini recuperando appunto quell'immagine della rete possiamo chiederci in che modo vorremmo e ci sentiamo di essere nodi all'interno di questa rete, quindi non più estranei ma proprio all'interno di questa rete. Ora io ovviamente non so le risposte a queste domande e sono anzi convinto che ognuno di noi possa rispondere a queste domande e possa farsene anche altrettante, perché questa esperienza, questa esperienza di virus, di isolamento, di riscoperta delle relazioni precipita dentro le vite di ognuno di noi in momenti specifici e quindi ognuno di noi potrà farsi queste domande e potrà farsene in continuazione. Non penso che ci sarà un momento in cui potremmo dire bene ho risposto questo è il mio nuovo modello di vita, sarà un processo, sarà un processo continuo. Quello di cui però sono convinto è che appunto provare a farci queste domande ci può permettere di ricominciare o meglio di cominciare a costruire delle nuove storie, delle nuove storie, dei nuovi miti e quindi dei nuovi modelli di eroe che ci piacerebbe essere. E so che non è facile, non penso per niente che sia facile ma penso che possa valerne la pena, proprio perché appunto nel momento in cui andiamo incontro a un cambiamento così grande, quello che ci troviamo chiamati a fare è proprio far ripartire le storie e dire bene da qui che cosa possiamo raccontare, da qui che tipo di eroi possiamo essere.